bella ragazzi bentornati su anto tv sergi oggi siamo con uno spese speciale che ha più iscritti di me mi da un fastidio cane oggi siamo con gabriele granata lui ha 10 iscritti e io ne ho 9 vabbè lui ha iniziato da un giorno il canale e ne ho 9 lui ne ha iniziato da 4 mesi e ne ha 8 e ne ha 10 quindi siamo già messi bene oggi gabrie puoi inquadrare tieni così fa schifo no ma tieni così se ci riesci ok vi mostro le mie figurine chiesa cartoncino che gabriele vorrebbe da tantissimo indietro solo che me l'ha scambiato ormai uno scambio ehi stai zitto leonardo pavoletti cartoncino te li scambiati tutti e due no no pavoletti l'ho trovato nel senato di tana sì salernitana 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 e anto io c'ho la guisola di qualità e tu no premi i miei video sono più belli no salernitana nuovo e cesena vabbè andiamo a salutare i vecchi no 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 cesena dopo però si dopo cesena che il video non deve durare neanche troppo perché io non c'ho il numero di telefono e non posso registrare tanto cesena ora che sto facendo veloce perché non posso registrare tanto brescia se non ci vuole solo vedere non dire la squadra non dire la squadra non lo dico io capi so per dire capri capra 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 basta 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 venezia 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 che retorgerà allora la prova c'è lì mi fai parlare ok allora la prova c'è lì la prova c'è lì la prova c'è lì la zona rid corporate persa niente io sono scomodo così no 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 GABRIE non ho sposto a ter camera perugio sono scomodo PORCA scusaочкуあの sono porca chi se la frega in venezia va beh vi piaci questa vuoi vivere faccio vedere due franco brienza ciccio brienza ascoli nel bari nel bari c'è franco brienza ascoli la provercelli retro cederà sicuramente in lega pro ascoli ma mi lasci un commento gabry nei miei video io te li lascio sempre lo stadio del tono finalmente siamo alla serie A ragazzi oh ovviamente con a te con a te la squadra della Roma Nicola Kalinic che nell'adrenaline c'è pure il top Lucas Leiva a fatto che gli sputo ragazzi un attimo la squadra della Juve ma che schifo veramente Sturaro Marco D'Alessandro Empoli Ladis quello delle femminucce checche come Empoli Ladis? si è Empoli Ladis Ladis si chiama Atalanta Atalanta Mozzanica Mozzicona Brescia Ravenna Woman Basta 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 che che è il il Virtus Santerra si beve Venezia 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 Ternana Ternana squadra non anticipare io non te le faccio vedere Venezia ragazzi Salernitana mi sta venendo un male alla mano chi se ne frega tu sei tu sei il mio assistente sei il mio portatablet eh vabbè anche se c'è un portatablet oggi sei tu ok dai Provercelli prendiamo il portatablet no no sei tu oggi il mio portatablet no Provercelli eh dai eh no Salernitana ragazzi sostenetemi per un dollaro a me no 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 nessun dollaro a lui a me mi dovete dare no no niente soldi niente soldi a lui però proprio niente neanche la monnezza a lui cittadella aia ma che aia che oggi sei il mio portatablet cremonese ah aiuto ma che aiuto ma basta sto per cadere basta ma basta tienilo te visto che ma che tienilo te va ok ah dammelo così parlo eh cos'è Empoli io te le te io te le te le foggia che aspettate foggia aspettate 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 foggia foggia eh frosinone scusate se non ci sono mascherie riordinando novara sono diventato io un portatablet che cattiveria palermo eh palermo palermo ma che eh che tu eri mio portatablet oggi dovevi essere il tuo mio portatablet hai capito sì eh ok sì salernitana è che sì mi so che non hai capito sì ma salernitana salernitana parma me le metti giù no dai no perugia 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 pescara yeah pescara 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 oggi è il giorno di pescara pescara pesca pescara 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 c'è c'è bobo aspetta pescara ma che bobo e bobo era del toro la boba ma che bobo la boba ragazzi eh per questo voglio me lo scambi per qualcosa no per oggi vi posso salutare con lui che per oggi doveva essere il mio portatablet ma non l'ha fatto perché c'ho la maglia degli sports ok quando c'ho la maglia del tottenham non devo farlo sì sei un portatablet del tottenham ok no sì sei un portatablet del tottenham scrivete hashtag ForzaNapoli JuveMerd e ForzaToro anche no sono ForzaNapoli raga nel mio canale nel mio canale non si iscrive ForzaToro ok ciao